proseguiamo con altra minuteria che ho acquistato su amazon questo è un set di viti metriche diciamo in standard m5 quindi 5 mm cioè m5 scusate non 5 mm quindi diciamo funzionanti con i classici dadi da 5 e va bene fetatura mi sembra anche buona hanno la testa piatta e hanno una particolarità l'impronta anziché essere a taglio a croce o esagonale usano un'impronta di tipo torx impronta torx ha il grosso vantaggio che richiede dei cacciaviti particolari non so se riesco a mettere a fuoco sì ok quello in pratica a stella e questo diciamo io lo utilizzo molto quando molto qualcosa tipo sulla moto sulla bicicletta da lasciare fisso perché normalmente non è così facile da svitare su comunque dei normalissimi viti in acciaio la lunghezza è di 30 mm e devo dire che sono in utilizzo diverse per cui le trovo sempre molto molto comode come al solito vi lascio il link in descrizione e vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile e se avete voglia diciamo di aiutare il canale a crescere anche ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per restare aggiornati sulle novità grazie e alla prossima